Musica Ecco il Carnevale è un momento per stare anche insieme, per ritrovarsi in comunità. Certo, è un momento di aggregazione, di festa, di incontro, di famiglie, soprattutto dei bambini che sono l'oggetto del nostro Carnevale. È nato proprio come Carnevale dei bambini, sono loro i soggetti. Tu guarda un po', prova a mettere la fotocamera verso questo bambino che anche lui è contento di arrivare a Rigutino con questi ragazzini che vengono anche dal di fuori dei paesi, perché Rigutino ha una capacità di aggregazione che è eccezionale. È un paese molto ospitale, ospita i bianchi, i neri, i rossi e tutte le razze. Musica 49 anni e non sentirli, tra poco 50, questo Carnevale compie un bel compleanno e lo compie con tanta gente, lo vediamo alle sue spalle. Lo vedete sì, una grande manifestazione bella che richiama un grande pubblico da tutte le vallate, anche da fuori. E' bello, con i soliti carri, il nostro trenino Rigutino Express che è la mascotte del Carnevale. Meglio di così, direi non poteva riuscire. C'è una signora alle sue spalle. C'è una signora che vuole... ah è Crudelia. Ah è Crudelia de Mond, sì ma non siamo parenti però, però è bene che ci sia. Insomma c'è voglia di divertirsi anche nel comitato, nel Presidente, vediamo alle sue spalle tanti bei bambini, tante belle famiglie. Indubbiamente questo Carnevale è proprio rivolto a loro, no? Sì, è rivolto tutto ai ragazzi, sì. Noi si fa tutto per fare contenti i ragazzi, per farli divertire. Tutti gli anni si cerca di fare il meglio possibile. In base alle nostre possibilità si guarda di fare il meglio che si può. Musica Musica Musica